Sì, però tant'è, si fa così, si fa dalle mani, si fa dalle mani, si fa dalle tizzi, no? Questa cosa da te prendere. A me sembra vedere un sacco di tizzi qua e là. Quelli che comprono ancora i miei. A me sembra vedere un sacco di tizzi qua e là. Di tutto ciò che era importante, è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. Oh! E tutti i conti ho fatto bene a ricordare le occasioni che ci stanno congelando. Le mani in tasca e il cesso in bagno e vuole la notte ai suonatori. Io sto aspettando da trent'anni i giorni dalle moni. Le muse vuole ai padroni. È il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi. E tutto il resto è il giorno che ripropo a prendermi.